Sindaco Filippo Sirati, anche Gubbio sconta purtroppo il problema della mancanza di medici, di medicina generale, di medici di famiglia. Attualmente ne mancano addirittura otto per l'intero territorio comunale. Lei ha affrontato questo tema anche con il direttore generale dell'ASL1, il dottor Braganti. Che situazione è emersa e quali sono le criticità più importanti? Beh, diciamo che intanto l'intero paese, cioè l'Italia, sconta un grave difetto, una grave lacuna di programmazione dei medici e più in generale delle figure di laureati, perché stiamo registrando che mancano parecchie figure in tanti ambiti diversi delle professioni. È chiaro che la questione del medico è delicatissima in un territorio come il nostro, perché è evidente che quando viene a mancare a Colpalombo e a Carbonesca si crea un problema, diciamo così, ancora più grave perché parliamo di frazioni che non fosse altro per la loro collocazione, per la loro perifericità, per il fatto che c'è una popolazione molto anziana, anche con tante situazioni di cronicità, di disabilità. Quindi è evidente, c'è un tema dei trasporti che ci è stato prospettato. Quindi occorre che noi intanto facciamo un grande presidio della sanità pubblica sia nei confronti del Governo e del Parlamento che della Regione dell'Umbria, perché è chiaro che devono venire scelte conseguenti a questo riguardo. Nella fattispecie faremo tutti gli sforzi possibili per affrontare questa situazione, per trovare nuovi medici, per utilizzare eventualmente medici che sono andati in pensione, ovvero la legislazione lo renda possibile, perché il Dottor Braganti ci ha prospettato tutta una serie di difficoltà in questo senso. Si stanno facendo verifiche a tutto campo. Noi ovviamente, come dire, vigiliamo su questa situazione. Non è che abbiamo un potere diretto di intervento, ma abbiamo chiaramente un potere di tutela della salute e diciamo così anche dei diritti, perché faccio presente che nel momento in cui a livello nazionale si sta discutendo dell'autonomia differenziata e si ripropone il tema dei cosiddetti leppe, cioè dei livelli essenziali di prestazione. I cittadini hanno diritto, tutti, in qualunque parte del territorio nazionale, ad avere prestazioni nel campo della sanità, dei trasporti, dell'ambiente, delle scuole, cioè di quelli che sono i servizi fondamentali e inalienabili, sanciti dalla Costituzione. Finché questo non è garantito da tutti i punti di vista, io credo che soprattutto noi comuni, gli antilocali, gli antiterritoriali, quelli che sono a diretto contatto con le persone, con la carne delle persone, debbano fare una grande battaglia, a prescindere da quelle che sono le posizioni e le collocazioni politiche. Quindi il tema dell'autonomia differenziata è un tema molto delicato che si incrocia proprio anche con queste situazioni. Ecco, tornando invece proprio al territorio di Gubbio, qualche mese fa il problema era di bel vedere della frazione a sud del Comune, questa volta, come diceva lei poco fa, Carbonesca col Palombo. Le gare però sono andate deserte, quindi c'è anche un problema legato proprio alla disponibilità dei medici ad andare in territori che però forse sono quelli che hanno per la maggiore delle persone anziane, quindi delle persone con maggiori difficoltà e che in fin dei conti richiederebbero non un presidio fisso ma anche solo saltuariamente la possibilità di trovare proprio un dottore, un ambulatorio per pochi giorni anche alla settimana. Certo, difatti tra il ventaglio di ipotesi che si stanno considerando c'è proprio questa, insomma, o la possibilità di prolungare il medico che è andato in pensione, o la possibilità di poter utilizzare un medico che almeno una volta alla settimana possa recarsi il loco. Cioè, diciamo che dobbiamo a tutti i costi trovare una soluzione che non penalizzi queste popolazioni le quali non possiamo immaginare che debbano continuamente spostarsi, in questo caso da colpa lomba e da carbonesca, nel caso di Belvedere ugualmente a Gubbio, ogni volta che hanno bisogno anche magari di una semplice ricetta. Questo credo che non sia immaginabile. Faccio presente che noi abbiamo istituito anche il taxi sociale come comune, con i nostri servizi sociali, proprio anche per venire incontro a questi disagi. Però è chiaro che non si può sopperire in tutte le direzioni se non attraverso un presidio medico che possa dare risposte in loco, soprattutto per le realtà che sono più lontane dal centro.